È una serata che si preannuncia pazzesca, abbiamo voluto chiudere le prime due stagioni del nostro podcast nel migliore dei modi e quindi con una vera e propria festa, invitando sul palco gran parte dei nostri ospiti attraverso degli spicci motivazionali, legando anche dei balletti, quindi avremo il corpo di ballo, alcune parti di magia e illusionismo, quindi vogliamo regalare un'emozione vera ai nostri spettatori questa sera. Presenteremo appunto un'academy che è partita appunto da questi podcast che hanno fatto emergere un sacco di valori che per noi sono importanti da tramandare ai giovani ragazzi e non solo per puntare a migliorare nel mondo lavorativo e anche a livello personale. Dopo questi valori abbiamo detto apriamo un'academy che si rivolge a tutte le persone che hanno il piacere di crescere soprattutto anche a livello lavorativo.